ciao a tutti ragazzi e ragazzi benvenuti sul mio canale oggi vi propongo un video haul che di norma non ne faccio mai per quanto riguarda acquisti fatti online questi acquisti sono stati tutti 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 sono stati tutti fatti online comunque sono stati acquisti fatti online perché c'erano vari sconti e quindi ne ho approfittato il primo scatolino che vi faccio vedere che è questo qui ho preso dei prodotti per quanto riguarda mac 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 ho preso alcuni prodotti scusate ma tolgo la scatola e vi dico anche i prezzi perché se me sbaglio qui c'ho i prezzi vero che c'è prezzi no col cavolo che hai prezzi stefani no non ho i prezzi ma fa niente non vi interessano allora ho ricevuto come campioncino il fix plus di mac che è molto molto carino questo andrà nella posizione delle mini taglie allora cosa ho preso da mac c'erano degli sconti dove c'erano blush illuminanti rossetti c'erano varie cose ma sinceramente non ho voluto prendere niente perché avevo fatto degli ordini sparsi tra sephora wicon e altre e quindi l'unica cosa che sinceramente mi incuriosiva tantissimo era questo il face in body della mac per quanto riguarda la colorazione white io sinceramente volevo prendere quella più piccola ma quella piccola non c'era quindi ho preso la 120 ml ed è questa qui questa allora io di questo ho sentito tantissimo parlare in giro perché viene utilizzata tantissimo dai makeup artist anche se l'alizzi mi ha detto che non è proprio così la cosa nel senso che lei non l'ha mai utilizzato perché veniva diciamo utilizzata dai makeup artist per quanto riguarda il matchare il fondotinta per le modelle che loro avevano io sinceramente l'ho preso perché prima mi serviva per quanto riguarda voglio vedere anzi la stesura per quanto riguarda il viso e tutto se lo fa bianco voglio provare queste cose per halloween e tutto ma in più l'ho preso perché volevo miscelarlo e volevo vedere come era la situazione se lo utilizzavo con dei fondotinta per vedere l'effetto del fondotinta ovviamente poi faremo delle prove con vari fondotinta anche con proprio il suo il suo fratellino proprio per vedere che tipologia diciamo di pelle risulta se mi piace non mi piace se mi fa troppo effetto bianco o altro quello poi in caso ve lo farò sapere perché farò un video apposito proprio di questo l'altro prodotto che ho acquistato è stata una una decisione che ho preso perché costato un bel po' perché l'alizzi sempre lei è la colpevole inutile che lo scrivi poi nei commenti la colpevole sei tu e quindi ti tieni questa ha detto che l'ha utilizzato tantissimo specialmente nelle modelle nelle modelle più agè per smorzare il fatto del per smorzare le occhiaie per quanto riguarda le persone più grandi questo è un contorno occhi è una crema contorno occhi istantanea giusto sì è una crema contorno occhi istantanea lei dice che l'ha utilizzata tantissimo e si è trovata sempre bene l'ha utilizzata nelle persone abbastanza adulte quindi io l'ho voluta prendere proprio per testare se lei ha ragione oppure no scrivetemi un commentino scrivetemi un commentino se voi la pensate così come lei oppure no se avete provato mai questo prodotto questo prodotto si chiama faced responser eye cream istantanea eccetera eccetera ve lo faccio vedere da vicino questo è il prodotto lei dice che proprio è il migliore in assoluto per quanto riguarda perché ovviamente lei essendo una truccatrice ha già utilizzato vari prodotti e lei dice che questo è il migliore in assoluto quindi testiamo la verificicità di quello che dice l'alizzi poi ho fatto un ordine da neve cosmetics perché a me piacciono tantissimo i pigmenti liberi quindi gli ombretti in polvere mi piacciono tantissimo in più erano super super scontati e anche qui non c'è il foglietto perché non mettono i prezzi scusate avete visto no non credo che ci sia comunque ho preso tutto nel formato mini ah c'è anche la cosa è questa ah il cartoncino non disturbare questo lo devo utilizzare quando vado in bagno mi servirà mi sto truccando no sto facendo un'altra cosa come mi chiamano sempre specialmente quando sono in bagno hanno il sentore di bussare comunque cosa ho preso ho preso dei pottini come vedete qua di questi mi viene difficile farveli vedere ovviamente perché si combinerebbe un macello allora ne ho presi alcuni tra cui peyote che sarebbe questo non so adesso cosa vedrete voi ed è un bianco sporco che ha del verde all'interno e del giallo io posso fare una cosa voglio vedere se riesco a farvi questo è quasi tutto di fuori comunque questo è questo qua esatto vediamo se riesco a farvi lo swatch infatti qua è tutto sporco proprio perché è uscito di fuori comunque sono tipo dei brillantini come se fossero un illuminante sembra come se veramente fosse un illuminante molto molto bello questo qui non so se si vede comunque vediamo se riesco a farvi poi delle foto e ve le inserisco proprio nel video poi ho preso vediamo perché sono tutti chiusi forse così un pochettino si vede mi devo grattare allora poi ho preso oyster che sarebbe questo il nome e il colore è questo verde molto molto bello e glitterato mi piace molto quindi voglio fare un makeup con questi prodotti io oggi ho fatto tipo quello con il blu vi è piaciuto tantissimo e altri perché veramente io mi ci trovo bene con questi veramente mi trovo bene allora poi vi faccio vedere questo che è collier questo è collier e questa è la colorazione ed è un azzurro polvere molto molto bello vedete questo questo colore qua che vedete molto 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 bello in caso poi vedrò vi farò le foto poi un altro colore che ho preso poi facendo un makeup verranno una cosa pazzesca questi sono a 12 mesi di scadenza ma io e 0,7 grammi di prodotto io sinceramente ho anni che ho questa queste ombrette di neve scrivono benissimo tuttora questo è videogame è videogame si questo qua ed è questo bronzo con dei glitter vedete è stupendo ed è un bronzer un bronzo proprio bronzo che ha del rosa e altre per le scienze tipo col verde col giallo molto molto ma molto bello poi un altro che vi faccio vedere che anche questo cercano di uscire fuori questo è tobacco questo è tobacco ed è questo quello era un bronzo questo è tipo un rame molto molto bello vedete i puntini quello è il colore che voi avrete proprio quello nei puntini e qua ne è caduto un pochettino però non si vede nel dito non si vede vi devo fare per forza gli swatch perché sennò così vedete male e io voglio farvi vedere proprio i prodotti veri e propri poi ho preso questo e non so come mai è nella confezione grande ed è liquid mirror of questo è nella confezione grande e non so se riuscirete a leggere il titolo il nome liquid mirror of e la colorazione è questa cioè non so se si vede è un beige glitterato ma è stupendo veramente è una cosa eccezionale vedete i puntini guardate bene puntini è un beige glitterato stupendo poi il fatto che ha questa apertura è ottima anche per utilizzarlo e richiuderlo e poi come omaggino mi hanno dato questo che è una cipria traslucente di canne ed è questa nel pottino piccolino devo dire che io mi sono trovata sempre bene con gli ombretti di neve sinceramente quindi li ho acquistati sempre specialmente anche questi in polvere mi sono trovata bene e poi vedrete sicuramente al 100% un video perché li voglio utilizzare perché mi piace tantissimo poi ho fatto un ordine da morfi perché volevo prendere delle cose però poi ci ho ripensato e non le ho prese più invece poi mi sono arrivate lo stesso ero stranita ho detto ma aspetta ma io non ho fatto più l'ordine la mia migliore amica aveva visto che io volevo tantissimo questa cosa e siccome io avevo lasciato tutto nel carrello lei ha fatto il pagamento e me le ha fatte spedire lo stesso quindi ho ricevuto lo stesso il pacco che avevo messo io di lato e avevo messo le spugnette queste qui di jeffree star erano scontate quindi le ho volute prendere sia per quanto riguarda gli occhi sia per quanto riguarda il viso e quindi ho preso queste spugnette di jeffree star non parliamo della situazione tutto ma la cosa principale è questa ho preso cioè mi è stata regalata la palettina di morfi è stupenda veramente stupenda io ho l'altra quella rosa e siccome avevo detto che mi piaceva lei mi aveva ascoltato e tutto e quindi mi ha preso questa qui adesso ve la faccio vedere è una bellissima palettina veramente molto molto bella è sempre racchiusa in questa in questo pluriball questa è la palettina cioè una sciccheria veramente si apre sempre a calamita come quella lì precedente ha un grandissimo specchio questa velina che toglieremo e questi sono i colori sono stupendi uno più bello dell'altro quelli che vedete in fila qua sotto questi dove sta passando il mio dito dicono che sono in crema che possono essere utilizzati si possono essere utilizzati cioè non sono in crema sono sempre dei pigmenti quindi delle polveri che possono essere utilizzate anche bagnate e diciamo hanno la formula di diventare un eyeliner non so se vedete la dicitura qua sotto vedete se li bagnate possono anche diventare un eyeliner quindi ottimo ottimo veramente vi faccio degli swatch di questo con i glitter di questo senape di quest'altro blu con i glitter e poi questo qui marroncino che è molto molto carino devo dire che la scrivenza è ottima mi sono trovata bene con la sua sorellina gemellina e quindi ovviamente 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 mi sono trovata cioè mi sono sicura di trovarmi bene anche con questa devo dire che è molto scrivente mi piace tantissimo e sono contenta che mi è stata regalata ovviamente 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 ripeto ovviamente ci sarà un video perché la proveremo e la proveremo insieme quindi faremo un first impressions come si dice come dicono le youtuber famose faremo un first impressions e la proveremo sono molto contenta di aver ricevuto questa palettina allora per quanto riguarda questo video è tutto io sono molto contenta dei miei acquisti sì fatemi sapere nei commenti se vi piacciono o non vi piacciono ditemi cosa ne pensate della nuova palettina e ditemi anche cosa ne pensate degli ombretti in crema in crema cosa ne pensate degli ombretti di Neve Cosmetics scrivetemi se volete un make up direttamente con questi prodotti perché li farò molto molto volentieri per quanto riguarda questo video è tutto se volete mettete un like a questo video e condividete se vi fa piacere a me farebbe tanto ma tanto ma tanto piacere io vi ringrazio e vi mando un grossissimo bacio e come vi dico sempre se vi è piaciuto il mio video spolliciate e se vi va noi ci vediamo al prossimo video ciao ciao